Buongiorno a tutti, Buongiorno a tutti, Bene, adesso iniziamo a praticare tutti insieme. Ci alziamo in piedi. Allora prima di praticare facciamo un breve riscaldamento. Facciamo per un breve periodo il movimento del bruco per sciogliere la spina dorsale e tutte le articolazioni. I piedi altezza spalle, larghezza spalle scusate. I piedi paralleli, il corpo centrato e rilassato. Se non conoscete il movimento del bruco potrete semplicemente copiare i miei movimenti. Solleviamo le mani all'altezza delle anche della vita. Seguendo il movimento della colonna le mani fanno questi due cerchi al lato. Adesso non potete vedere le mie gambe. Comunque le ginocchia si abbassano e si alzano e immaginando di essere come un serpente o come un bruco che uscilla e si muove tutto il corpo, quindi anche le gambe, anche le ginocchia. Rilassate le caviglie, le ginocchia, le anche e tutte le articolazioni si muovono seguendo questo movimento del bruco. Lentamente e senza affrettarvi. Questo movimento non è semplicissimo da spiegare diciamo a distanza, se avessi un modello qui ve lo potrei far vedere in maniera più semplice. Però cercate di seguire il maestro Tao. Prestate attenzione al movimento della colonna vertebrale il cui movimento parte dal coccige e da lì si solleva il C che muove tutto il resto del corpo. Questo movimento è molto utile per rilassare i muscoli che circondano la spina dorsale e ogni articolazione. Se avete problemi con le articolazioni attraverso questo movimento potete ricevere degli ottimi benefici. Inoltre questo movimento può correggere la vostra colonna vertebrale e rimettere a posto ogni problema delle vertebre. Molte persone che hanno le croniche attraverso il tuo corpo. Se avete delle malattie croniche essendo che dalla colonna parte tutto il sistema nervoso questo movimento può aiutarvi a curare tutte le malattie dentro il corpo. Questo movimento potrete praticarlo dai 5 ai 10 minuti prima di fare il primo, il secondo livello o la posizione statica in piedi. Quando avete fatto un po' di questo lavoro quando il C e il sangue sono abbondanti scorrono bene allora potete praticare il livello 1, il livello 2 o la posizione statica in piedi e gli effetti saranno maggiori. Lentamente il corpo in posizione retta e le braccia lungo i fianchi. Lentamente unite i piedi. Se sentite all'interno la sensazione di calore vuol dire che il C e il sangue stanno migliorando. Quando lavoriamo in questo senso e dopo che abbiamo aperto i canali meridiani interni allora possiamo cominciare la pratica delle forme di Qigong per avere degli effetti moltiplicati. effetti migliorati. Ok, this is today's information. Quindi queste sono le informazioni per oggi. In the morning, if you like, you can do the caterpillar movements to open inside joints, relax inside different joints. It's a kind of useful practice. Se volete tutte le mattine potete fare il movimento del bruco per aprire l'articolazione interna. Gli spazi interni è una pratica molto utile. Spero che tutti con questa pratica avrete avuto dei buoni benefici e avrete un bellissimo futuro. Ok, thank you everyone. Grazie a tutti. Thank you. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Thank you master. Bye bye. Arrivederci ragazzi. Ciao a tutti. Good night master. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Grazie a tutti.